BPM24, Fiera di Levante di Pari, siamo il partito di Fondo Italia e con me è Larita Maggiulli, responsabile dell'area formazione finanziata di Pedia Terziario. Buonvenuta Larita. Grazie. Larita, voi come ente attuatore fate attività formative per tantissime aziende che aderiscono a Pedia Terziario. Che tipologie di aziende principalmente chiedono il vostro aiuto? Il nostro bacio di utenza è prevalentemente per micro e imprese, micro e anche piccole imprese. Qualsiasi settore abbiamo, dall'azienda di armonicola all'azienda di armamenti pepropiani, a barri di piccoli armigiani, commercio con le armamenti pepropi. Qual è la tipologia di attività formativa più gentonata? La maggior parte dei corsi sono corsi estremi, però ovviamente è stato molto importante che anche i corsi che garantiscono la possibilità di poter aggiornare le competenze del proprio lavoro. Bellatoria, di business, di business, di marketing, di questa situazione che abbiamo fatto. Negli ultimi anni i vari avvisi di Fonditalia prevedono la possibilità di aderire a tanti scortelli che vengono aperti lungo il popolare. Sì, questo è fondamentale perché se scortelliranno le aziende, man mano che si rendono conto di quelle che sono le loro esigenze formative, hanno poi la possibilità di poter accedere tramite un concorso formative che viene tra l'altro in un concetto superiore dell'esigenza aziendale, di poter appunto proporre e comportare un concetto di grande progetto che possa venire in forza a un loro esigenza aziendale. Secondo te quali sono i tre punti di forza che distinguono Fonditalia rispetto agli altri fondi? Perché è un fondo veloce, quindi comunque si hanno finanziamenti in dimensione, è agile, quindi è molto facile presentare il progetto a scortello, quindi non c'è molta burocrazia e poi è flessibile, il progetto può essere finanziato in base all'esigenza dell'azienda.